Speramente sapevamo che venire a giocare qua era difficile, abbiamo dato tutto, non siamo riusciti a fare gol, ma dispiace non aver chiuso già prima il girone, è un momento difficile, adesso ci bocchiamo le maniche, aspettiamo il playoff di marzo, cercando di dare il massimo e andare ai mondiali. Che cosa si è perso dello spirito dell'europeo da settembre ad oggi, se si è perso qualcosa? Lo spirito ci è sempre stato e come ho detto prima è un momento difficile, adesso purtroppo il calcio è così, a volte ti gira un po' di fortuna, a volte un po' meno, come ho detto prima adesso bisogna pensare a marzo, fare i playoff e cercare in tutti i modi di qualificarsi.